Ma per il momento ho preso contezza della realtà dell'ente, una nota estremamente positiva ma veramente rasterenato è stata il conoscere i dipendenti e dal loro incontro naturalmente sono emerse le varie criticità che inevitabilmente le province tutte oggi riscontrano a causa di una riforma del Rio che non ha tenuto conto assolutamente dell'importanza che quest'ente ha per i territori, per i comuni però ho visto dei dipendenti con grande senso del dovere, con un grande senso di appartenenza a quest'ente che nonostante gli anni difficili e precari si sono impegnati al massimo per fare il loro dovere e nonostante che il numero sia fortemente dimezzato ho potuto constatare un'efficienza e una voglia di fare che non è mai scontata. Naturalmente la criticità della situazione della provincia è nota come tutte le altre in conseguenza alla riforma quindi il nostro obiettivo sarà quello di partire come ho già detto dalle priorità per me le priorità vuol dire sicurezza sulle strade, per i ponti, sulle scuole, abbiamo più di 60 scuole quindi l'attenzione alla sicurezza per i cittadini e gestendo nel modo più corretto possibile le risorse intanto a disposizione quindi partendo appunto proprio dalle emergenze e man mano facendo una gradasoria delle cose fondamentali su cui intervenire facendo anche un'azione più rispettosa di tutti i territori e quindi affinché non rimangano indietro i comuni più piccoli che molto spesso diciamo vengono tralasciati a discapito poi delle città più grandi quindi un'attenzione a tutti, tutti i territori valgono allo stesso modo nonostante il voto ponderato e poi per legge fa pesare di più i comuni più popolosi lo stesso rispetto, la stessa attenzione la provincia deve dare a tutti i comuni del territorio grazie 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 grazie